Un amplissimo giardino cinquecentesco, un tipico giardino all'italiana in cui si affaccendano varie figure e questo è il soggetto di questo splendido arazzo che si trova nella sala degli arazzi di Palazzo Tursi all'interno dei musei di Strada Nuova. Se lo guardiamo attentamente possiamo scorgere rose, tulipani, peonie e altri fiori. Le figure sono fedeli della Dea Pomona e stanno raccogliendo le offerte da dedicare alla Dea. Un pretesto per portare all'interno della casa tramite questo splendido manufatto cinquecentesco di una manifattura fiamminga l'incanto della natura ma anche dell'arte dei giardini cinquecenteschi. Grazie a tutti! Grazie a tutti!